Bella a tutti ragazzi, buongiorno, buonasera, anzi direi buonanotte, benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube Non mi vedete nella mia solita postazione perché sono nella villa degli Elites Non so se li conoscete, se non li conoscete vi lascio il link in descrizione di tutti quanti i loro canali che sono circa una sessantina No, non meno, sono 7, 8, 9, andate a guardare perché tra l'altro ci sono anche un po' di video insieme quindi io un'occhiata a Yara Comunque ragazzi è quasi mezzanotte e nonostante in questi giorni stiamo facendo un sacco di video di cibo perché dove ci sono io c'è cibo E i ragazzi ci hanno un po' con l'anguore quindi hanno detto a te che fai, che fai, e vabbè facciamo una carbonara E quindi ragazzi già lo sapete, carbonara di mezzanotte nella villa degli Elites Per la carbonara di stanotte abbiamo bisogno di calamarata Guancialotto di Venditti Food Azienda top da cui io mi ritornisco sempre per prendere i miei prodotti artigianali Infatti vi lascio il link in descrizione del loro shop e ci troverete anche uno sconto applicato Quindi io una passeggia da dove lì me la farei Uova pasta gialla, pecorino romano sempre fornito da Venditti Food e pepe fatto bene Allora ragazzi la prima cosa da fare fondamentalmente è tagliare i gonciati Io ho già arrivato a una gotenna e l'ho già fatta a fette, facciamo listarelle Ma cavallio che si dice, quando si mangia? No, iniziamo No, ho iniziato No, con un po' di fame No, noi Elites consumiamo, ci vogliamo sul calcio, tema europeo C'è lo sport che consumo Va bene, non lo so, ce l'ho a 10 minuti Sì, sì, tutto il tempo che vuoi Nella Venditti Elites il tempo scorre molto lentamente Mi smaglio se non è una citazione di qualche film No, in realtà non è un'altra cura però E questo potrebbe diventare un film Mamma mia, mangio dure Mamma mia, c'è già così a crudo Ti dura di ora quando lo praticamente abbrustolisci come sale A coppo Perché la scelta della calamarata? Perché ho notato una cosa fighissima che fa Essendo molto larga, ci finisce dentro un cazzo di gonciare Ci finisce dentro pure la crema Se lo metti in bocca, vedrai Se lo metti in bocca, potrò solo che godere Esatto A ognuno i suoi gusti Quindi ci vediamo a pianto concluso Ok, mi raccomando Allora ragazzi Il nostro guanciale è tagliato, perfetto Andiamo sul fuoco Fuoco alto, padella fredda E lasciamo il gonciare così Lo sapete Quando inizia a spurgare Mettiamo il fuoco al minimo e facciamo dire che guarda tutto quanto è il grassetto Ci vediamo Questo è il momento della crema ragazzi Così Questo tagliere non funziona E da sbattere anch'io Lo sbattitore Così si sbatte Hai sbagliato tutto l'azzo Ma non è Ma li devi dividere Ma tu la mi hai mangiata a carbonara No Mi sono dimenticato di fare la carbonara Ma che stiamo facendo una torta? Crochet Vabbè, facciamo una torta Dai Non c'è carbonara Ora si fa una torta Ok, va bene Vabbè, uno si può mettere Sì, sì Un'alguno va bene Ah sì, uno si deve mettere Sì, si va benissimo Ciao Buongiorno Buongiorno un c***o Buongiorno Ragazzi, ricordo A tutti i pari di Matteo Che va a carbonara Un piatto tipico napoletano Giusto, Matteo E questo Hai fame? Ah, un po' che hai detto Mezzanotte ci sta E se hai fatto il gioco riede Ma dipende Cosa mi dai in mano È il tuo Ma io di no Ma quanti uova ci hai messo? 12 Abbiamo messo? No, in realtà abbiamo messo 12 tuorli E due albuni Volontario, eh? Tutto volontario Tutto volontario Non perché uno l'ha messo lui per sbaglio E l'altro io perché Ci sono andato appresso Vabbè Aspetto questa carbonara Sì Andiamo Aspetta Senti un po' di pezzi Inizio a sentire un po' di Di pezzi Però almeno sono utili Allora il guancialotto inizia a essere croccante E a tirare fuori tutto il grasso Quindi abbassiamo al minimo E facciamolo spurgare per bene Ma torniamo alla nostra crema Allora I nostri tuorli con due albumi Andranno a ricevere Del sano, sanissimo pecorino romano E una valanga di pepozzo E andiamo a frustare Cercando di non fargli del male Perché comunque è sensibile Lo andiamo a frustare Io sento che frusti qualcosa o qualcuno Vuoi essere tu quel qualcuno o quel qualcosa? No, mi dissocio completamente da queste parole Sai che Devo dire due cose Io e bene? No, questa non fa parte delle due cose Però era aperto che ti avrei detto Che dolce Allora Quello che hai inventato da Carbonara Sì Come ha fatto a mettersi lì A dire Prendo solo i tuorli No, però È vero Questa è una cosa divertente Ti spiego perché Andiamoci al secondo Per fare questa considerazione So che hai bisogno della carta Ma per Ah, ok Pensavo per l'altra Scusami Allora Sì È divertente Perché Non è andata così Cioè è ovvio Che non sia andata così Allora Come ogni ricetta tradizionale In Russia Nessuno conosce la vera natura Perché viene tramandata di generazioni In generazioni È impossibile Impossibile Sapere la vera natura Inizio Però Quello che ti posso dire Te lo firmo E lo dico davanti a tutti Mi prendo questa responsabilità Sono sicuro Che quando l'alimentata Non era solo tuorli Ok Come che non era solo pecorino Come che non era solo guanciare madriciano Questo io te lo dico Che non era così È ovvio Poi nel tempo Si è un po' evoluta Noi che sai Stiamo sui social Siamo Prendiamo l'abitudine Della facciata Tra virgolette Di che deve essere bella Deve essere cremosa Deve essere fatta con il guanciale Con il guanciale Deve essere croccante Quindi abbiamo preso Negli ultimi amino standard E quindi sono tuorli E due albumi Solo guanciale Però ho un formato di pasta un po' anomoro Solo solo Cioè l'alternativa guanciale Se ti proponessi tipo Ah È vero È interessante È interessante Perché tu non mangi magnaile Esatto E quindi Comodorino se è così Ok Posso farlo Puoi scrivermi il cuagliere Puoi scrivermi il stagliere Dai faccia il suo Va bene Va bene Allora La nostra carbocrema è finita In teoria Qui ci andrebbe Un po' di Grassetto del guanciale Però ovviamente Per rispetto ad Omar Non ce lo metteremo subito Leviamo un po' di crema Lo mettiamo in questo Per vedere lo spazio dell'uova Lo mettiamo qui E adesso Grassetto del guanciale Che nel frattempo è finito Ed è diventato Stracroccante ragazzi Tecnica infallibile Guarda qua Questo ci aiuterà anche A pastorizzare le uova E ok ragazzi La nostra carbocrema È finita Questa È quella di home Incontaminata dal guanciale Ma ora Tagliamo I pomodorini secchi Allora Voi lo sapete Io non sono Un grande amante Delle rivisitazioni Soprattutto della carbonara Del resto Delle rivisitazioni Sì in realtà Però Ovviamente Per home Non è una scelta Di gusto È una scelta Legata Alla cultura Alla religione E quindi Non mi sono sentito Dirgli di no Taglierò questo Pomodorino secco E tutti gli altri Pomodorini secchi All'istarello Come se fosse Del vero e proprio guanciale Cosa stai facendo? Sto tagliando i pomodorini secchi Per una carbonara di home Ah Un'alternativa quindi? Sì Beh C'è strada Comunque qui dentro Sì Fa veramente caldo Come se lasci La pasta Il volviene qua Qua c'è lo stesso Sì Mi trovi probabilmente D'accordo Sto facendo La colla Potrebbe essere Un modo alternativo Per cucinare la carbonara A temperatura ambiente Meglio A temperatura ambiente Sto facendo Questi i pomodorini secchi Io voglio mettere Una ciotolina Che nel frattempo Ho lavato Levo il tagliere E andiamo a scottare Leggermente in padella Anche i pomodorini secchi Sarebbe Conoce C'è la decida Allora Dire che questo è il momento In cui facciamo cadere Della calabrata Dei pomodorini secchi E la caliamo Nell'acqua bollente Senza sale Non finirò mai Di dirvelo Nelle ricette romane Dove si utilizza Tanto pecorino romano Che è molto molto salato Niente sale Nell'acqua Altrimenti Vi strappate la bocca Ok L'acqua bolle La pasta si cala Andiamo a girare E la lasciamo qui A cuocersi Finché non sarà Al dente Non lo scuocere Della pasta Ragazzi È tipo Illegiale Nel frattempo Ragazzi Il nostro guancialotte È diventato Bello croccante Quindi Piatto Caccia assorbente E scoliamo Il guanciale Così che Non si ammoscia E rimane Bello croccante Come vi Voi Ok Ok Padella Filo d'olio Facciamo scaldare E poi Scottiamo I nostri pomodorini Per il caro Home Così Sarà felice Leggermente Ragazzi I pomodorini secchi Ci mettono Zero A bruciarsi Padella Super bollente 10-20 secondi E spegnete Ce l'abbiamo Prima Inizia a salire Il biocco Inizia a salire Il biocco Comunque La pasta Dovrebbe proprio Essere cotta Allora Mettiamo Prima Quella Di home Qui E non gliela Tocca Nessuno Basta Fra E la nostra La scolriamo Direttamente In una Vasca Di carbocrema Questa È la carbocrema Intonza Che l'abbiamo Qui dentro Nella padella Per onno Oh Dove vai Guarda Guarda Non si vede La differenza Ragazzi Non si vede La differenza Sì Tutte E via Passiamo La nostra Vieni a fare La sua Sintila Scusate Mi si è appena Sbloccato un ricordo Anche a me Chiedi uno Esatto Molti ricordi Ragazzi Ma per le tante Carmonare Dici Sì Beh Parlavo di quelle Evidente Diamo Un'altra Bella aggiunta Di guancialotto Che non fa mai male E via Ragazzi E via Andiamo di là Dai ragazzi E gli portiamo La carbonara Ragazzi È ora Si impiatta? Si impiatta Vediamo se la carbonara La carbonara notturna Sarà buona Come quella diurna Sì Lasciamo piccole porzioni Sennò questi non mi dormono Stasera Vabbè che ce l'ate fatta Però Diurna è tipo di giorno Ma che io mangio con i cucchiai? Io mangio con il cucchiaio la pasta Allora Ma mi è solo Dove vi mangiare il cucchiaio? Si è un disadattato Vabbè C'è gente che mi ha criticato perché ho mangiato il riso col cucchiaio Allora la pasta corta no Il riso no Ma che c***o? Questo ci devo mangiare col cucchiaio scusate? Cappellettini del gelato Cappellettini del gelato Quanti piatti mancano? Uno Uno Due Tre Vabbè dopo Dai Stagione di gruppo Su Vai Buon appetito Buon appetito Evviva Dito la raga Ahui Come vedi? Evviva 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 Beh Evviva la carbonara Ma te Ci voleva o? Ma l'una ci voleva Comunque questa carbonara dopo la sconfitta della pancia C'ha un sapore ancora più privato Come mai la scelta di questa pasta che non si forchetta? No è bellissima Perché è per le persone che la mangiano col cucchiaio Ah quindi è per te questa Esatto La mangio solo io nel mondo Era la manata questa Vedi? Vedi? Alla? Calamara 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 che non sia buona Che non si forchetta Ma forse la forchetta di tetrosa Non è Che Anto ho fatto da 1 a 10 Contando le luna di notte però Mezzanotte Cioè 9 E' buona proprio 9 Dove? Dove? Dove è mezzo 9 10 Non ho fatto proprio il mio amico Dopo la vittoria della Svizzera a 10 Allora La Svizzera del mio frattano cecio ha vinto Quindi 10 E' la più gustosa Ok ragazzi La media di questa carbonara E' molto molto alta Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Tanto quanto a loro è piaciuta la carbonara Se non l'avete ancora fatto lasciate like Venetemi a seguire su Instagram Condividete il video con gli amici Attivate la campanellina Perché Devo uscire un sacco di video fighissimi Come vi ho detto all'inizio del video In descrizione ho lasciato il link Di tutti quanti i loro canali YouTube Perché In questi giorni abbiamo registrato un sacco di cose insieme E mi vedrete presente praticamente in tutti quanti i loro canali Quindi un occhio glielo darei Detto questo io vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao Buonanotte Ciao